Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ben trovati cari fratelli e sorelle. Oggi è la quinta domenica del Tempo Ordinario, anno B. Il Vangelo di oggi ci presenta ancora un brano del Vangelo di Marco, in cui c'è un'epifania di grazia immensa con cui Gesù inonda tante persone. La prima persona che riceve questa grazia è la Suocera di Pietro, che viene guarita dalla febbre ed era bloccata a letto. Gesù la prende per mano, la solleva e poi viene guarita da Gesù, perché da Gesù viene fuori una forza, una grazia che guarisce tutti. E poi la Suocera di Pietro si mette anche a servirli. E poi anche nel Vangelo è scritto che portarono anche a Gesù tanti indemoniati la sera davanti alla casa di Pietro e tanti ammalati. E quindi Gesù ne guarisce molti, ne guarì tanti. Quindi è un'epifania di grazia che viene dal Signore Gesù. E quindi in questo giorno, in questo giorno possiamo dire anche un giorno di guarigione, un giorno di salvezza, che è domenica anche un giorno di liberazione, diciamo una preghiera, cioè diciamo risanaci Signore, risanaci Signore, Tu che sei il Dio della vita, Tu che sei il Dio della salvezza, Tu che sei la nostra pace, Tu che puoi tutto, Tu che sei onnipotente, Tu che sei il Signore, Tu che sei l'Altissimo, ecco potremmo anche ripetere quell'inno a Dio che face il cantico di San Francesco d'Assisi, quindi risanaci Signore, il Dio della vita, Tu sei il Dio della vita. E dove c'è Gesù, ecco la vita rinasce, la vita risorge, l'uomo, l'uomo invece ecco alcune volte agisce in maniera contraria alla vita, si fa del male a se stesso, fa del male all'altro, però ecco Gesù, Gesù con la sua potenza risistema le cose, Gesù ci risana, ad esempio Gesù risana i cuori affranti, dice il Salmo di oggi, Gesù fascia le loro ferite, quindi grande il Signore. Oggi dobbiamo cantare in questa Domenica del Tempo Ordinario alla potenza di grazia del Signore, però in questa Domenica c'è un accento anche molto forte alla dimensione quindi della sofferenza dell'uomo, perché nella prima lettura c'è Giobbe, l'esperienza di Giobbe che veramente è un'esperienza forte di sofferenza, che lui però accetta e vive anche con molta pazienza, quindi ecco è un invito anche a vivere anche la nostra sofferenza, le nostre croce, sapete che in questa vita terrena ognuno ha una croce, non esiste una persona che non ha una croce, non esiste una persona che non ha una sofferenza, ma anche per questo Gesù è salito sulla croce, Gesù è salito sulla croce per redimere la sofferenza, per darci forza nella sofferenza e anche per farci fare un'esperienza di Lui in quella sofferenza che viviamo. E quindi praticamente oggi ecco c'è questa dimensione della potenza, della grazia di Dio che scende su di noi, ma anche una riflessione sulla sofferenza, infatti la sofferenza viene causata dall'uomo, la sofferenza è l'uomo che la immette nel mondo con il peccato e quindi Dio ci fa capire questo Vangelo, anche la liturgia di oggi, che Dio scende lì, scende proprio lì dove l'uomo soffre, dove l'uomo è povero, dove l'uomo è solo, dove l'uomo porta anche un peso pesante, dove l'uomo è oppresso anche dai suoi peccati e anche dai peccati degli altri, ecco il Signore scende proprio lì dove ci troviamo noi, questa è una cosa molto bella, Gesù ci viene a visitare, c'è quel brano, ecco ricordate sempre un po' la Sacra Scrittura, il brano della Genesi, quando praticamente ad Amedeva, Adam e Eva peccarono e poi Dio si presentò davanti a loro, almeno fece udire la sua voce e disse ad Adamo, all'uomo, quella parola dove sei, dove sei, questa parola dove sei significa che Dio si preoccupa di Adamo che si è allontanato da lui e sta male e quindi Dio dice dove sei, dove ti trovi e poi ecco il Signore annuncia poi il protovangelo con la nascita ecco del Salvatore, quindi oggi è come se il Signore anche dicesse a ciascuno di noi dove sei, dove ti trovi, quali sofferenze vivi, qual è lo stato della tua anima, come stai, ecco Dio che ci dice come stai, ti voglio aiutare, ti tendo la mano, e infatti nel Vangelo di oggi appunto Gesù tende la mano alla suocera di Pietro, la prende per mano e la risolleva, un po' vedete quindi Gesù ci viene a trovare nella situazione spirituale in cui ci troviamo e quindi ci chiediamo com'è lo stato della nostra anima, lo stato della nostra vita, lasciamo entrare Gesù nella nostra vita e poi Lui ci aiuterà a guarire dalle ferite, ci aiuterà ad affrontare con pazienza, ci potrà anche guarire questo secondo la sua santa volontà e quindi ecco affidiamoci alla grazia di Dio e facciamo entrare la grazia di Dio nella situazione concreta in cui viviamo, perché la grazia di Dio, lo dicevamo all'inizio, è veramente immensa. Nella seconda lettura poi c'è San Paolo, l'esperienza di San Paolo, San Paolo viene guarito perché lui era persecutore dei cristiani e poi dopo ecco quell'esperienza in cui il Signore gli fece udire la sua voce, Saulo perché mi perseguiti, poi lì cambiò totalmente vita e poi San Paolo comprese la bellezza di Gesù e poi si mise poi a disposizione di Gesù. Infatti nella seconda lettura di oggi vediamo come San Paolo dice, io mi sono fatto servo di tutti, dice San Paolo, servo di tutti, quindi era contrario a Gesù Cristo, opprimeva Gesù Cristo, opprimeva la Chiesa prima, cambiò totalmente vita facendosi servo di tutti e poi dice mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno, tutto io faccio per il Vangelo. Allora un po' dobbiamo chiedere un po' questa guarigione del cuore e della vita al Signore, cioè lui ci viene a visitare, il Signore, per guarirci e perché la nostra vita diventi bella nel servizio degli altri, perché in effetti più noi ci doniamo agli altri e più siamo felici, più pensiamo a noi stessi e più saremo infelici, quindi la guarigione dall'egoismo, la guarigione da noi stessi. Gesù è venuto perché noi abbiamo la vita, l'abbiamo in abbondanza, però anche Gesù è venuto perché anche noi trasmettiamo vita, quindi ognuno di noi, vedete, ha delle potenzialità grandissime, ognuno di noi con Gesù può essere guarito, può essere liberato, consolato e con Gesù poi può guarire, consolare e liberare tanti fratelli. Questa esperienza un po' della vita che Gesù ci dona in abbondanza e della gioia che ci dona a tutti. Benissimo, dopo questo breve pensiero di questa domenica, volevo dirvi che le sante messe saranno celebrate tra 40 minuti alle 8 e mezza nella Chiesa Matrice, poi ancora alle 11, sempre qui a Curinga, nella Chiesa Matrice e poi questa sera la Santa Messa alle 5 e mezza sarà celebrata nella Chiesa dell'Immacolata. Ecco, partecipate a Messa, è molto bello partecipare a Messa e l'esperienza ecco di guarigione del cuore, di liberazione, di pacificazione, ecco noi la facciamo soprattutto durante la Santa Messa. Una cosa volevo dirvi di partecipare a Messa e di vivere bene la Messa, perché la Messa è una fonte di grazia immensa in quanto durante la Messa c'è Gesù vivo, c'è Gesù vivo che ci consola, ci guarisce, ci aiuta, ci dà forza, ci dà pace e quindi non la Messa, uno dice devo andare a Messa, è un dovere, sì è un dovere, ma prima che sia un dovere la Messa è un bisogno, è un bisogno dell'anima, noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo perché senza di Lui non possiamo fare nulli. Lui è la nostra salvezza sia in questa vita poi la salvezza nel giorno della nostra morte e poi Lui è la nostra salvezza eterna perché ci porterà con sé nel paradiso per godere la beatitudine eterna. E allora al termine di questo breve collegamento in diretta da Facebook diciamo insieme una preghiera, un'Ave Maria e vi do a tutti una santa benedizione. Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato. Buona e santa domenica a tutti da vivere nella fede e nell'amore verso i fratelli. Ecco vi lascio ancora con questo panorama qui mi trovo sopra Curinga nella via che porta all'eremo vecchio di Sant'Elia. Si vede anche tutto il paese di Curinga da qui e poi si vede in fondo anche la chiesa matrice. Ecco faccio un piccolo zoom. Ecco la chiesa matrice. Ecco è tutto il paese di Curinga. Qui abbiamo veramente a Curinga dei posti bellissimi. Questa è la strada che poi porta a Sant'Elia ed è anche la strada che porta anche al Platano antico, anzi vi invito a votare anche questo Platano nostro perché sta partecipando ad un concorso europeo e rappresenta tutta l'Italia, il nostro Platano di Curinga e vi invito ad andare sul sito anche seidicuringa.it e poi lì trovate tutte le indicazioni anche per votare il nostro Platano che sta partecipando ad una gara europea. Il nostro Platano è stato definito, almeno per quest'anno 2021, come l'albero più grande e l'albero più bello di Curinga e quindi partecipa a questo premio un po' europeo insieme a tanti altri alberi che sono presenti in tutte le altre nazioni e quindi sarebbe una cosa bella anche se il nostro Platano poi fosse vincitore anche di questo concorso. benissimo, auguri a tutti, il Signore vi dia a tutti pace, buona e santa domenica.